Guardate cosa vi ho portato! È banale! Ragazzi, ragazzi! Vi piace le banale? Eh? A noi piace la prugna! Ho incontrato la Francesca che ce l'ha profumata e fresca e poi penso alla Susanna, lei la vuole con la panna e che dire di Rebecca te la offre solo secca, al contrario di Renata che ce l'ha sempre bagnata. La prugna, la prugna, la prugna è sempre buona, è un vero tocca sana se ci fai la marmellata. La prugna, la prugna, mi piace il tricolore, se la mangi notte dì, non ti servirà il dottore. Se la chiedi a Tantonella, te la dà con la Nutella, se la offre Beatrice, in un istante sei felice. Solo quella di Ziappina ha una forma sopraffina e che dire di Natascia che fa storie e te la lascia. La prugna, la prugna, la prugna è sempre buona, è un vero tocca sana se ci fai la marmellata. La prugna, la prugna, mi piace il tricolore, se la mangi notte dì, non ti servirà il dottore. La prugna, la prugna, la prugna è sempre buona, è un vero tocca sana se ci fai la marmellata. La prugna, la prugna, la prugna, mi piace il tricolore, se la mangi notte dì, non ti servirà il dottore. La prugna, la prugna, la prugna è sempre buona, è un vero tocca sana se ci fai la marmellata. La prugna, la prugna, la prugna, mi piace il tricolore, se la mangi notte dì, non ti servirà il dottore. Se la mangi notte dì, non ti servirà il dottore. Se la mangi notte dì, non ti servirà il dottore. La prugna, la prugna, la prugna. Grazie a tutti